Buonasera a tutti e benvenuti alla night session di giovedì 7 aprile. Sono le 22.33 e parleremo dell'andamento di Bitcoin con l'analisi evoluta. Innanzitutto segnalo che non faccio video tutti i giorni, ok? Ma li faccio solo esclusivamente quando ha più senso farli. Quindi questo per il fatto che dirvi che siamo in lateralità e fare un video sulla lateralità non so quanto possa essere utile per tutti. Mentre invece se come vedete ci stiamo organizzando in modo efficace e efficiente per ragionare di un nuovo trade a quel punto effettivamente registro qualche cosa nel momento in cui può star per succedere qualche cosa di interessante. E che cosa può succedere? Bene, prima di tutto andiamo ad analizzare il nostro indice. Sappiamo che per tutto il tempo in cui il t settimanale durerà, il ciclo settimanale durerà, noi continueremo a aggiornare i minimi. Ovvero se questo sarà effettivamente poi il settimo t-3, il settimo ciclo giornaliero, piano piano torneremo, o con il settimo, con l'ottavo, nono, decimo, undicesimo, sotto questo minimo qua. Sotto il minimo a, dunque, 42.804 dollari. E a quanto siamo arrivati di questo supposto settimo t-3? Siamo arrivati a 26 barre. Abbiamo la condizione sufficiente, necessaria e sufficiente per la chiusura del settimo t-3? Teoricamente sì. Perché? Perché anche in questo caso non esprimiamo opinioni. Ovvero, non dico io penso che forse potrebbe magari... No. Osservo, ci sono un tot di candele che partono e fanno un piccolo sottociclo, di questo ciclo così, a ribasso, conto, vedo se è un t-6, vedo se è ribassista ed è ribassista, e so se il settimo t-3, il settimo ciclo giornaliero o supposto tale, ripeto, effettivamente può aver chiuso. Se ha quello che sentite ormai tutte le sere, se seguite il canale, se c'è la condizione necessaria o sufficiente. A quel punto, questa è un'ipotesi di lavoro, che cosa faccio? Vado a vedere se da qui ci sarà la stessa identica condizione necessaria o sufficiente per far partire un ottavo t-3 o un secondo t-3 nel caso che questo fosse l'inizio di un nuovo settimanale. Ma come farò a sapere se sta per partire un nuovo settimanale? Lo saprò innanzitutto dal tempo, so che per far partire un nuovo settimanale ho bisogno di almeno tot candele, tot tempo effettivo, sopra questo minimo a 42.804. Quello che abbiamo raggiunto entrando short ieri e guadagnando bei soldi, riprendendoci una parte di quello che avevamo perso con il long, purtroppo mancato qua a causa del raccordo inverso che ci aveva fatto un bello scherzetto. Bello però tornare a guadagnare molto rapidamente dopo che si è perso qualcosa. A questo punto torniamo a noi, ripadisco. Settimo t-3, settimo ciclo giornaliero, punto di domanda. Appartiene ancora a questo t? Lo scopriamo attraverso gli swing. Ci sono degli swing importanti che se non verranno violati molto rapidamente ci diranno che questo è il settimo e poi avremo l'ottavo e che comunque tendenzialmente si tornerà a continuare a scendere sotto questo minimo, a 42.804, sempre raccordi a parte, eccetera, eccetera. Noi che cosa abbiamo fatto nel gruppo premium? Noi abbiamo ragionato di che cosa può succedere adesso. E la cosa interessante degli swing divertente è che evitano di anche soltanto temporaneamente andare in perdita o costantemente di andare in perdita. Abbiamo ragionato di un eventuale, per chi conosce l'analisi evoluta, per chi sta studiando, per chi pensa di essere un trader non alle prime armi, ok? E per chi sa che le scelte le facciamo singolarmente. Questi non sono suggerimenti, non sono segnali o altro. Sono ipotesi di lavoro che ognuno valuta con la sua testa, ok? Ci siamo detti, se torneremo entro un tottitempo sopra questo swing a 43.901, ci metteremo long per minimo un tottitempo, massimo un tottitempo e in medio un tottitempo. Che tottitempo è? Ovviamente, se stiamo ragionando di t-3, e in questo caso inversi, ragioniamo di minimo 24 barre, in media 32 al massimo 44. La violazione però sapete quando deve venire? Deve venire prima di un certo tempo, altrimenti non abbiamo più vantaggio. Se la violazione di questo massimo arrivasse alla trentatresima candela, nulla mi dice che dopo la violazione, dato che siamo ben oltre il tempo minimo, si torni a scendere. Per cui non è profittevole come cosa. Mentre invece, se avviene prima di un determinato tempo, ci dà un vantaggio competitivo, per cui non andremo soltanto a ragionare di target di prezzo, ma andremo soprattutto a ragionare di target di tempo. Cosa che chi non utilizza l'evoluta non può fare. Perché questa è lateralità, non è che ci sarà molto da raccontarsi. Perché dovrei valutare un long di acquistare bitcoin se si va sopra qui entro un certo tempo? Perché? Non c'è una spiegazione, se parliamo di analisi tecnica. Stessa identica cosa per candele giapponesi. Non è che ci sia molto da raccontarsi. Sì, qui c'è una candela di spinta, verde, ma nulla ci dice che non diventi poi rossa e che poi si torna a scendere. Poi, boh, capite? Non c'è un pattern predefinito. Invece, il tempo nell'evoluta è fondamentale. Continuo a ripeterlo costantemente anche al gruppo premium. Non chiedetemi qual è il target a livello di prezzo. Innanzitutto rimaniamo dentro fino alla 24esima candela. Vediamo se c'è, in questo caso, un massimo assoluto. E poi, inseriamo un bel take profit e lasciamo correre eventualmente il profitto con una tecnica operativa che è propria dell'evoluta e che non esiste nella vecchia ciclica. Non c'è. Nella vecchia ciclica tantissimi bei teoremi, tanta bella teoria, tutto quello che volete, ma a livello pratico ho visto tanti non sapere gestire un trading, trailing, e soprattutto, se non conoscono gli swing, non parlarne mai. Noi, invece, sappiamo dove passano e sappiamo che cosa succede se vengono superati determinati livelli. Questo è un gran vantaggio competitivo. Ci evita di prendere delle enormi cantonate. Anche in questo caso è stato violato questo massimo a 43.901? Qui è stato fatto 43.826 contro 901. Siamo entrati long? No. Abbiamo evitato di ritornare sotto, di andare a finire a 43.555 temporaneamente. Non è bello iniziare a vedere che un long, un acquisto di bitcoin ci porta temporaneamente in perdita. ha più senso ragionare con un metodo statistico-matematico che non parla di notizie, sentiment, dati on-chain, hash rate, tutto quello che vi può venire in mente di cui si parla, però, dopo un movimento. Ah, questo come è stato giustificato non è una più palle idea. So solo che noi, dopo aver sbagliato qui, siamo entrati qui short ed è sceso. ha continuato a scendere perché questa è l'unica variabile che se non si riconosce molto rapidamente e non è semplice, ok, può portarci in perdita. Un raccordo che, per definizione, il raccordo vecchia lingua di Bayer, si chiamavano lingue di Bayer un tempo, è una finta e purtroppo si può cadere in una finta, assolutamente. Per quanto riguarda l'indice, quindi abbiamo fatto le nostre considerazioni, giusto? Qui siamo arrivati fino a qua, qui può esserci una condizione necessaria e sufficiente per la chiusura, ma non è detto che questa sia la chiusura perché siamo a 25 più una barra, dobbiamo vedere se avremo una condizione per la partenza del nuovo T-3. in quel caso potremmo dire che il precedente è chiuso e siamo a posto. Matematica, statistica, regole, se le imparate sapete fare da soli, non avete neanche più bisogno di me, che è una cosa che non penso che venga detta in altri canali, ma qui si lavora in maniera etica a livello di circolo virtuoso e non si prendono in giro le persone. Per cui l'indice l'abbiamo visto e l'inverso? L'inverso abbiamo, primo T-3 con questo fantastico raccodo, fantastico, secondo T-3 inverso, terzo T-3 inverso che ha avuto una durata un bel po' più lunga rispetto agli altri ma è rimasto a 38 barre sul massimo 44 e da qui abbiamo avuto la condizione sia necessaria che sufficiente che tutto quello che volete, sia in termini di swing che tempo che tutto il resto per far partire il quarto T-3 inverso anche perché potrebbe aver chiuso su questo massimo il nostro T-3 inverso è ovviamente no 46 barre oltre 44 ok? Quindi in violazione di questo massimo noi possiamo raccontare perché andremo long perché abbiamo un sistema abbiamo un metodo abbiamo delle regole sappiamo quanto dura un ciclo e se taglieremo la sedicesima barra ipoteticamente quindicesima diciottesima ventesima barra questo livello sappiamo che il massimo che verrà fatto con quella barra potrà essere andato a pareggiare o essere superato o si continuerà in tendenza a salire per minimo 24 barre in media 32 massimo 44 fine non ci interessa più che cosa succede che ne so con una notizia di American Express con l'Alving che è in arrivo cioè qualsiasi notizia non tocca e vi ricordo che peraltro l'intuizione folgorante di due giorni fa rivedetevelo questo video guardatelo con estrema attenzione implicava una discesa guardate qua la freccia vi raccontavo che questa media mobile era tanto piatta per andare a salire per quel momento ok e davo tanti altri spunti per capire che cosa stava per succedere infatti è successo e infatti l'errore di andare long e l'abbiamo pagato ok ne parlo perché è importante ammettere i propri errori e imparare da da essi può succedere succede magari raramente fortunatamente per noi su questo canale però quando succede bisogna identificarlo perché come mai è successo questo se non lo si fa non si sa come evitarlo in futuro lo stesso errore giusto? anche in questo caso guardando i cicli superiori abbiamo che siamo arrivati a un T più 3 ovvero un trimestrale che per ora può essere arrivato a 74 giorni su al massimo quanti massimo 84 sappiamo che 10 giorni può ancora succedere qualche cosa più eventuali raccordi ovviamente l'altra cosa che sappiamo a parte il T più 3 che ha tutte le condizioni sia la necessaria che la sufficiente per chiudere perché gli bastava un T settimanale ribassista e urca se ce l'abbiamo un T settimanale ribassista mettiamolo già più in arancione qui c'è la condizione e poi andando a vedere il secondo T settimanale noi limitiamo ancora il tempo e qui però siamo a 43 barre 43 barre significa che se questo è tutto mensile e se non si è chiuso qui su questo minimo dell'1,4 ok questo è l'ultimo giorno di discesa perché più di 43 giorni il nostro T più 2 non dura a meno che non ci sia un raccordo di quanto sappiamo già può essere tra un T più 3 un ciclo trimestrale ed un altro trimestrale anche le finte noi sappiamo quanto possono durare al minimo in media o al massimo capite che se imparate le regole ribadisco potete imparare a ragionare e fare da soli ma chi è che vi racconta questo genere di cose in altri canali fate da soli potete imparare a fare da soli non lo so ditemelo voi finite però la disamina sul lato indice e lato prezzi noi abbiamo l'inverso qui abbiamo che cosa da questo massimo a questo massimo 47 barre troppe 44 qui abbiamo identificato un movimento di un certo tipo ok qui abbiamo 27 barre che rientra in un T più 2 da qui da quante barre siamo sotto da quante barre siamo sotto questo massimo siamo sotto da 10 barre che significa un T settimanale che si sta già allungando perché il massimo ne dura 11 di giorni e un T settimanale che cosa lancia se è rialzista in questo caso rialzista per l'inverso è discesa lato prezzi e questo è rialzista quindi anche se scende perché è rialzista per l'inverso ok e questo lancia un ciclo di due gradi superiori che è un T più 2 inverso che stranamente arriva dopo un T più 2 inverso e da qui a qui 139 barre ci collocano all'interno di un T più 4 quindi scendendo da questo massimo abbiamo violato qualche swing che ci dice che cosa può partire dal 28 3 torniamo al 28 3 cosa abbiamo violato di swing attenzione questo è vecchio ok per cui faccio che toglierlo che se no non serve più ecco la differenza tra chi utilizza la vecchia ciclica e chi utilizza la mia evoluta è proprio questa che adesso andrò a raccontare che cosa sta partendo da quel massimo lì e sapremo che cosa aspettarci e se ha senso andare eventualmente contro il trend attuale che è di discesa se questa analisi vi è piaciuta mettete un bel like inserite anzi iscrivetevi gratuitamente al canale cliccate sulla campanella per sapere quando uscirà la prossima analisi di bitcoin ma attenzione guardate anche quelle sugli indici più ascoltate di evoluta più riascolterete quest'analisi nel corso del tempo mentre andate magari ad ascoltare i video gratuiti di trading days li trovate nella playlist sempre sul canale è un piccolo videocorso gratuito di analisi ciclica base per poi passare all'evoluta e più saprete fare le cose da soli vedrete delle cose che quando siete la prima armi è impossibile vedere quando utilizzate l'analisi tecnica e basta non le potete vedere come gli swing per dire se utilizzate le candele giapponesi non sapete che cosa può succedere con l'evoluta no con l'evoluto è diverso non si ragiona come detto solo su target di prezzo ma anche di tempo buona serata a tutti e buone riflessioni arrivederci